Ben trovati sul mio canale YouTube ragazzi, oggi tanta compraventa ma prima di partire vi invito a dare un'occhiata alla nuova promo di FC Maglia.com Personalmente ho preso un regalo per un amico che è Juventino, gli piace Danilo e Tifa Brasile E gli ho preso il completino di Danilo del Brasile Trovate link in descrizione per accedere al sito e per la nuova promo Trovate coupon in descrizione per avere il 10% di sconto Spedizione gratuita e oltretutto per ordini sopra i 60€ avete una divisa omaggio Che aspettate fateci un salto Oggi parliamo di Showdown Series perché è la nuova promo che avremo nel weekend Promo non promo in realtà perché se per promo siamo abituati a vedere un team speciale nei pacchetti Questo weekend non avremo teoricamente nessuna squadra nuova speciale nei pack Cosa vuol dire? Vuol dire che saranno praticamente quasi assenti spacchettamenti Perché la gente non ha motivi per andare ad acquistare tramite FIFA Points o crediti i pacchetti che verranno rilasciati nel negozio Showdown Series che cos'è? Semplicemente il rilascio di tante SBC a tema Showdown Lo Showdown è quello che mette a confronto due giocatori Di due squadre che giocano probabilmente una partita di campionato, di coppa, quello che è Per esempio gioca, non so, Milan-Atalanta in campionato Potrebbero fare uno Showdown selezionando un giocatore d'Atalanta, un giocatore del Milan Colui che vince prende un più due, in caso di parità più uno, in caso di sconfitta la card resta invariata È interessante fare compravendita con questa tipologia di promo settimanale per due motivi Il primo è quello che riguarda i fodder, quindi le categorie Principalmente mi piacciono le categorie 85, 86, 87 e 88 Principalmente 86, 87 per un rapporto qualità-prezzo e sicurezza Quindi difficoltà nel poter andare a perdere crediti Perché comunque abbiamo sempre la possibilità del rilascio di una SBC Icona o una SBC Iro questa settimana Considerando che la sfida Icona l'abbiamo avuta dieci giorni fa La sfida Iro manca da ormai 15-20 giorni e più potrebbe essere papabile quella sfida lì Per quanto riguarda le SBC giornaliere e Showdown Generalmente chiedono 84, 85 Quindi la categoria 85 potrebbe anch'essa andare ad inflazionarsi Perché? Perché semplicemente in assenza di spacchettamenti La gente se vuole completare il Showdown deve necessariamente andare a comprare le card Le categorie che noi metteremo in vendita Quindi compriamo oggi entro domani ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello che offre il mercato E andiamo già a rilistare un prezzo maggiorato magari del 15-20% sul prezzo di acquisto Indicativamente Poi i dettagli magari ne vediamo oggi o domani live sul nostro canale Twitch Vi ricordo ovviamente che se vi abbonate con Amazon Prime è gratuito Potete accedere al nostro server Discord Dove facciamo compravendita giornalmente con i miei consigli Altra cosa importantissima per chi ha budget alti Gli Showdown sono super interessanti per le carte gameplay Perché una volta che esce uno Showdown Che può essere magari interessante Quindi ci offre una card interessante A un prezzo giusto Un prezzo basso Un prezzo corretto Possiamo fare compravendita con le card che vanno a linkare quel giocatore lì Quando un giocatore viene rilasciato via SBC C'è molta più utenza che completa quel giocatore in un breve lasso di tempo Rispetto magari a una carta che viene rilasciata in un team speciale Nei pacchetti eccetera eccetera E generalmente questi giocatori di SBC sono molto più accessibili Rispetto ad altre controparti che escono nel negozio e nei pacchetti Quindi quando esce un giocatore Se prendiamo sempre l'esempio di Milan-Atalanta Qualora dovesse uscire un buon centrocampista Per esempio un buon attaccante Un buon portiere Un buon terzino Qualsiasi carta del Milan È chiaro che per andare ad inserirlo in squadra Necessariamente devo andare a mettergli di fianco altri giocatori del Milan A meno che non abbia una super nazionalità Che sia Francia, Italia eccetera Dove allora ci sono tanti link Però se no generalmente devo per forza andare a mettere i giocatori del Milan Un esempio poteva essere quando è uscita l'SBC di Ben Nasser Che è una nazionalità scrausa Era una card interessante E si è rivelata tale perché è una delle SBC più apprezzate Della prima parte di foot Stracompletata Ha ricevuto gli upgrade Era strausata Era buono in game E soprattutto costava pochissimo Quindi molti l'hanno completata E per linkare a Ben Nasser Necessariamente devo mettergli Oh My Nan O Teo Hernandez O Tomori O a suo tempo Leao Eccetera eccetera Allo stesso modo Qualora dovesse uscire un giocatore Prendiamo ad esempio Krunic E' chiaro che tutti i link del Milan Vanno a salire di prezzo Per far sì che la gente che completi l'SBC di Krunic Lo possa utilizzare in squadra Ovviamente parliamo sempre di carte gameplay Quindi ormai le card oro sono obsolete Salvo magari un Teo Hernandez oro Che ancora può essere considerabile gameplay Tutti gli altri sono Inutilizzati Ok? Quindi per esempio Potrebbero salire di prezzo Leao If Teo Hernandez If Tomori If Eccetera eccetera O magari esce il giocatore di Atalanta Vanno a salire di prezzo I possibili link a quel giocatore lì Se quel giocatore ha link Ricordatevi che Per quanto riguarda le carte gameplay Bisogna sempre Verificare L'andamento di prezzo Di quella carta Negli ultimi 24-48 ore Perché Se per esempio Venisse Lickato Krunic Quindi Food Sheriff Pubblica un tweet Dove dice Guarda che Krunic Arriverà via showdown È chiaro che Tutti gli investitori Tutti i Patreon Tutti i gruppi di compravendita Avranno già consigliato L'acquisto dei vari link Teo Hernandez Tomori e compagnia Quindi è probabile Che quel giocatore lì Che voi vorreste comprare Come link Sia già salito Del 10% del prezzo E quindi magari potrebbe già Non essere più interessante Quindi fate attenzione Nel Chi comprate Quando comprate A verificare Il suo andamento di prezzo Ricordatevi anche Che più un giocatore Ha un rapporto Qualità prezzo Interessante E meno link A quel giocatore Più saliranno Le card Che vanno a linkarlo Vi porto un esempio Bale Era un giocatore Rapporto qualità prezzo Super Super Top Oltretutto Un giocatore Che aveva Essendo Nazionalità Gallese Campionato MLS Aveva praticamente Pochissime card Che potevano Aiutare Nell'ibridarlo In squadra Quindi tutte le carte Hero Tutte le carte Icon Tutti i giocatori Che potevano linkarlo Sono saliti di prezzo Drasticamente Quindi in quel caso Anche Nonostante Diciamo Gli investitori Avessero già fatto Alzare di prezzo Quelle carte Dopo il rilascio Delle sbc Hanno continuato Ad alzarsi Di prezzo Drasticamente E qualcuna Addirittura Arrivata al cap Tipo il campus Hero O campus Il portiere Heroes marvel Per farvi un esempio Quindi Mi raccomando Abbiate l'accortezza Di queste cose qua Ma c'è possibilità Secondo me Di fare tanti crediti Giornalmente Grazie alle showdown sbc Con tutti i metodi Che vi ho spiegato Se volete approfondire Seguitemi live Su twitch Trovate tutti i link In descrizione E potete abbonarvi A nostro canale Per entrare Nel nostro server discord Detto ciò Fatemi sapere nei commenti Chi vorreste vedere E cosa ne pensate Della showdown series Ci vediamo Su twitch In questi giorni Grazie per la compagnia Alla prossima Ciao